buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di balbuzie tartaglia chi tartaglia chi balbetta e che ne approvate tutte senza nessuna soluzione benissimo io ti invito a sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola della tua zona che però abbia già aiutato persone con la balbuzie ad eliminare questo problema che risale nel tuo passato negativo a quando qualcuno ti ha spaventato e fatto arrabbiare ti ha impaurito eccetera eccetera per eliminare quelli dell'immagine che gira con disco rotto nel tuo subconsciente che tu ci credono quindi la bella notizia che oggi con l'ipnosi vera e professionale può eliminare questo difetto che la balbuzia scrivimi ti risponderò gratis ai progetti associati che oggi la libro punti e vai presto un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola e fai domande 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 e cerca una soluzione inizio questo percorso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi al dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesta il dottor calcio racino a facer condividi con amici parenti se hanno il problema della balbuzia e se vogliono risolverlo e perché può essere quella molla quel quid che gli cambia la vita e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesta il dottor claudio saracino e ricordati non devi credere a me devi fare documentati oggi hai il cellulare il cellulare che ti può aiutare a documentati va bene per cui un bacio un abbraccio al prossimo video grazie